Musica Fulmini, piogge grandi nel maltempo si è abbattuto sulle marche provocando danni e disagio. A Fanno, allagati di nuovo il sottopasso dell'Ido e via Pisacane, auto impantanate e cittadini esasperati. Sono stati dimessi gli alunni di terre roveresche rimasti feriti. Ieri in un tamponamento tra un camioncino e lo scuola, bus anche domani non sarà garantito servizio di trasporto. Con o senza Green Pass, i nostri ragazzi lavoreranno sempre. A Pesaro Filippo Ciavarini esprime solidarietà ai suoi dipendenti e critica l'obbligo imposto dal governo. E' una guerra tra poveri, tamponate anche i vaccinati. Caos a tamponi e allarme nelle aziende. In provincia di Pesaro Urbino sono più di 15 mila i lavoratori non vaccinati. Oggi riunione in prefettura con i vertici della sanità e della regione. Buttati fuori dalla palestra dopo 40 anni, a Cucurano prosegue la battaglia di Franco Biagioli che chiede un dietro fronte di Barbara Brunori e le sue dimissioni. L'assessore replica, devo aiutare tutte le società e non seguire gli interessi personali di qualcuno. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano il maltempo che è tornato a colpire la nostra regione, in particolare la provincia di Pesaro Urbino, contemporanei e grandi. Ne affanno si sono allagati strade e sottopassi con auto impantanate e disagio alla viabilità. Filippo Pucci Ci risiamo. È bastata un'ora di pioggia intensa per far allagare di nuovo il sottopasso dell'Idoafano poi chiuso al transito dei veicoli e via Pisacane di fronte alla stazione ferroviaria. Tanti i reporter di strada che fin dal primo pomeriggio hanno inviato alla nostra redazione foto e video per mostrare gli effetti e i disagi provocati dal temporale. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in diverse zone della città come nel parcheggio dell'ex caserma Paolini, nel sottopasso dell'autostrada lungo via 4 Novembre a Rosciano e poi in quello di Viale Carducci dove un'auto, con l'acqua arrivata all'altezza del cofano, non riusciva più ad avanzare. Stesso problema anche per altri conducenti che poco dopo hanno percorso quel tratto di strada rimanendo bloccati. Sul posto anche la polizia locale. Nella zona dell'Ido poi è stato necessario l'intervento del carroattrezzi per soccorrere un automobilista in via Simonetti. La provincia di Pesaro e Urbino è stata colpita anche da una breve ma intensa grandinata come mostrano i video dei telespettatori che hanno immortalato i piccoli chicchi di ghiaccio. Questo invece è uno dei fulmini catturati dalle nostre telecamere. Tanta infatti è stata l'attività elettrica che si è abbattuta sulla costa provocando anche blackout in diversi quartieri della città. Secondo le previsioni di Geometeo.it nei prossimi giorni ci sarà un tempo più stabile e soleggiato con temperature che si manterranno ancora al di sotto della media ma con un progressivo aumento a partire da domenica. E adesso vi facciamo vedere le foto che ci sono arrivate dall'asilo Gallizzi nel centro storico di Fano perché diverse parti della struttura si sono allagate di nuovo sia all'interno nelle aule in cui giocano i bambini che all'esterno nel giardino si è cercato di tamponare con degli stracci e dei sacchi di sabbia. Poi sono arrivati in supporto anche i volontari della protezione civile ma questa situazione, ci hanno scritto in un messaggio, si presenta ogni volta che piove e il comune ne ha conoscenza. Sono stati dimessi dagli ospedali gli alunni dell'istituto comprensivo Gio Pomodoro rimasti feriti ieri in un tamponamento avvenuto tra un camioncino e lo scuolabus e lungo la strada provinciale che collega piagge di terre roveresche a Cerasa di San Costanzo. A causa dell'impatto tre ragazzini erano stati soccorsi e portati a Santa Croce di Fano mentre una dodicenne era stata trasportata dall'Eliambulanza al Salesi di Ancuna. Dunque per fortuna stanno tutti bene mentre ora il comune ha lavoro per ripristinare servizio di trasporto scolastico che però anche domani non sarà garantito. Ed ora passiamo all'intervista che abbiamo realizzato a Filippo Ciavarini il noto imprenditore pesarese critica l'obbligo del Green Pass imposto anche nei luoghi di lavoro e assicura ai suoi dipendenti che lavoreranno sempre con o senza lasciapassare. Non me la sento io dopo due anni di calci negli Zebedei di mandare a casa un ragazzo o una ragazza che in quel momento l'ho trovata senza Green Pass. Filippo mette le cose in chiaro come recita un cartello pubblicato sui social dal 16 ottobre le nostre ragazze e ragazzi lavoreranno sempre Green Pass o non Green Pass noi non licenzieremo nessuno. Eh sì perché il titolare dello storico locale atipico da Ciavarini in strada Molino Maggiotti a Pesaro non condivide l'obbligo che da venerdì interesserà tutti i lavoratori italiani. E nel suo caso i tre dipendenti ai quali nel periodo estivo si aggiungono altri collaboratori. Da venerdì però in base alle nuove norme chi si presenta sul posto di lavoro senza lasciapassare verrà allontanato ma per il cinquantenne un'azione di questo tipo e qui verrebbe un licenziamento e l'imprenditore non ci sta. Non ci sono deroghe particolari non c'è una malattia che puoi prendere non c'è un permesso non c'è una ferie è semplicemente un allontanamento al posto del lavoro non remunerato quindi vuol dire che tu vieni a lavorare e io non ti do i soldi e allora io ti mando a casa tu stai a casina non prendi i soldi non sei tutelato da nessuno. Non mi pare corretto. Dovremmo essere ancora in democrazia lo Stato è quello che è per carità di Dio con i suoi lati positivi e negativi però dovrebbe esserci un pelarino di assistenzialismo e non c'è purtroppo, non c'è. Tra l'altro come ricorda Ciavarini la vaccinazione non porta all'immunità. È una forma mentis. Adesso sta venendo fuori la storia che io sono vaccinato ok problemi zero. No non è vero. Io vaccinato sono portatore del virus come qualsiasi altra persona. Quindi se tamponate i non vaccinati per una questione di ripicca o per una questione di impuntamento delle regole o perché comunque sia volete fare i coercitivi nei confronti di chi non è vaccinato perché non dovete tamponare anche i vaccinati? Altro problema è la spesa mensile che ricade sulle spalle dei lavoratori che se non vaccinati dovranno eseguire i test rapidi ogni 48 ore. Io devo costringere un mio dipendente che è stato preso per il collo con la cassa integrazione perché lo vorrei ricordare a tutti i nostri dipendenti come tantissimi migliaia di altri dipendenti sono stati in cassa integrazione in questi due anni per via dell'oggettività del Covid quindi hanno chiuso le aziende per forza quindi ho torto collo o si faceva così o si faceva così. Hanno percepito la prima mensalità che equivale a circa 400 euro non 1.200, 1.300 quanto prendevano prima ma 400 euro quindi un terzo di quello che prendevano dopo sei mesi. La mia domanda è questi ragazzi per questo lasso di tempo quindi sei mesi cosa hanno mangiato? Il panino con la mortadella o sono andati alla Caritas? Il discorso è solo questo. Quindi noi per sei mesi abbiamo dato da mangiare il panino con la mortadella ai dipendenti va bene soffrono non c'è nessun problema adesso li devo coercire di stare a casa oppure di spendere 300 euro al mese ma togliamo soldi ai lavoratori questa è una guerra tra i poveri come funziona? Noi ci dobbiamo pagare i tamponi e per pagare questi tamponi oggettivamente dobbiamo sborsare di tasca nostra il tampone ai portuali di Genova viene regalato dallo Stato e noi ce lo dobbiamo pagare quindi la giustizia è uguale per tutti? No non è uguale per tutti e allora ma di cosa stiamo parlando? Io dico semplicemente volete tamponare le persone per essere sicuri che non trasmettono il virus? Fatelo anche a chi ha fatto il vaccino rendetelo obbligatorio anche a chi ha fatto il vaccino chi ha fatto il vaccino può trasmettere il virus a tutti benissimo nella stessa maniera in cui un non vaccinato può fare E sono tante le problematiche e i dubbi che le imprese si pongono a due giorni dallo scattare dell'obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro prima tra tutti la questione dei tamponi Servizio di Letizia Marchionni L'imminente obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sta creando caos e preoccupazioni a due soli giorni dallo scattare della misura infatti si conta che in provincia di Pesare e Urbino siano tra i 12 e i 15 mila i lavoratori non vaccinati numeri che fanno temere a sindacati Confindustria non solo le assenze forzate che potrebbero verificarsi venerdì 15 ma anche una grande richiesta da parte dei lavoratori senza certificazione verde di prenotare un tampone con il conseguente rischio di intasamento delle strutture ritenute non sufficienti da Confindustria per reggere l'onda d'urto La mancanza di tamponi infatti potrebbe avere conseguenze sulla presenza al lavoro dei dipendenti ma il problema dei test antigenici rapidi dell'assenza del personale e delle sostituzioni potrebbe essere un importante nodo da sciogliere non solo per le grandi imprese nel caso delle piccole aziende artigiane la preoccupazione è quella che anche con la mancata presenza di pochi dipendenti la produzione possa essere comunque intaccata diverso è il caso delle piccole imprese a conduzione familiare dove l'assenza di personale potrebbe essere sopperita con doppi turni dei titolari o dei membri della famiglia inoltre ad aggiungersi alla lista ci sono il problema dei tempi che vedrebbe circa 15.000 lavoratori effettuare un tampone per tre volte a settimana e la questione dei prezzi il test antigenico rapido ad oggi costa 15 euro per questo è in atto un confronto su eventuali forme di abbonamento e sconti sui tamponi nel pomeriggio si è svolto un incontro in prefettura al quale sono stati convocati i vertici di Confindustria dei sindacati e gli assessori regionali alla sanità Filippo Saltamartini e al lavoro Stefano Aguzzi per far fronte ai problemi che venerdì visti i numeri potrebbero rivelarsi estremamente seri e allora sentiamo dall'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi che cosa è emerso durante l'incontro in prefettura questa riunione che è stata convocata dal prefetto al quale hanno partecipato ovviamente i sindacati che credo che abbiano richiesto appunto questo incontro c'erano le forze dell'ordine c'era l'Asur e c'era Confindustria il prefetto ha anche chiamato a me come assessore regionale al lavoro perché? perché le tematiche sono quelle che un po' ci aspettiamo al di là adesso del giudizio che ognuno dà sui vaccini chi è pro chi è contro io credo che si sia fatto bene a cercare di forzare il maggior numero di vaccinazioni possibile anche perché se oggi noi non fossimo vaccinati ci ritroveremmo in mezzo alla pandemia ma al di là di questo il problema adesso è pratico è un problema reale questo green pass obbligatorio per entrare al lavoro ecco io al di là di come ognuno la pensa temo che qualche disminuto qualche disfunzione ci sarà nelle prossime ore perché? perché chi non è vaccinato c'è circa un 20% di cittadini parliamo di questa provincia ma è più generale parliamo di questa provincia circa un 20% di cittadini in età lavorativa non vaccinata qualcuno magari non dovrà andare a lavorare ma mettiamo che siano il 15% se prendiamo il 15% complessivo delle persone dei lavoratori si parla di 30.000 persone in questa provincia non di una persona o due di conseguenza ci può essere un bel problema anche perché queste persone vogliono giustamente andare a lavorare tramite il tampone faranno un tampone in farmacia ma le farmacie sono in grado di fare tutto questo numero di tamponi regolarmente due o tre volte a settimana per ogni persona probabilmente ci sarà questo tipo di difficoltà quindi cosa potrà succedere? potrà succedere che il dipendente si presenta dicendo io sono andato in farmacia ma non ho fatto il tampone in quel caso non si può dalla normativa nazionale far entrare quella persona all'interno del posto di lavoro sicuramente ci saranno un po' di disguidi in questo senso la disponibilità data da Asur qui stasera su richiesta del prefetto è stata quella di dire noi il nostro personale non possiamo adibirlo a fare i tamponi in questo senso perché noi abbiamo diciamo tutte le nostre procedure per fare i tamponi a chi è in quarantena che si fanno ormai da anni da mesi da un anno e mezzo a questa parte tutt'al più potremmo valutare se dovesse esserci una richiesta da parte delle farmacie potremmo valutare la disponibilità di dipendenti Asur fuori dall'orario di lavoro che magari prestino qualche ora di servizio all'interno anche delle farmacie private in questo caso però è il farmacista privato che deve pagare quel personale e magari non so se ci sarà più dentro i costi da sostenere per fare il tampone ecco è un po' un problema che si sussegue è un po' una catena problematica che si sussegue non è che ci sia stata stasera una soluzione o un'idea particolare si è un po' preso atto di una situazione che sicuramente darà qualche dismido e lo dovremo valutare anche dopo le prime ore per capire se c'è qualche diciamo situazione da dover affrontare in maniera anche inedita che oggi non ci riusciamo a rendere conto questa è stata un po' la situazione della serata è stato un confronto utile ma è stato un confronto fra badanti Novax o che hanno ricevuto vaccini non riconosciuti dall'Unione Europea come lo Sputnik è il rischio caos per un milione di famiglie italiane che hanno una persona a casa dedicata all'assistenza di malati o anziani lo rende noto l'Unione Europea delle Cooperative UE-COP in riferimento all'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori in Italia più di 9 badanti su 10 il 92% sono donne hanno spiegato e un quarto è di origine italiana oltre la metà arriva dai paesi dell'est Europa e il resto da altre parti come Africa o Sud America aree del mondo dove la copertura vaccinale è molto più bassa considerato che lungo la penisola ci sono oltre 400 mila badanti irregolari e almeno altrettanti in nero la mancanza di Green Pass evidenzia l'associazione rischia di scatenare un cortocircuito a livello nazionale con anziani e malati che potrebbero restare senza assistenza adesso il consueto aggiornamento sul covid nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte due persone si tratta di un uomo e di una donna del Fermano rispettivamente di 61 e 98 anni invece i nuovi positivi sono 71 di cui 24 nella provincia di Pesero Urbino negli ospedali della regione rimane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre in quella semi-intensiva c'è un paziente in meno rispetto a ieri ed ora ci spostiamo a Cucurano di Fano dove continua la protesta di Franco Biagioli presidente della Futsal Olimpia Biagioli attacca l'assessore Barbara Brunori per averli esclusi dalla palestra dopo circa 40 anni Assessore lei non è in grado di tenere una città di 60.000 abitanti faccio un passo indietro vado a casa per il bene di tutti è sorpreso deluso e arrabbiato Franco Biagioli prima presidente della Olimpia ginnastica Cucurano e ora della Futsal Olimpia Fano Biagioli si scaglia ancora una volta contro l'assessore allo sport Barbara Brunori per averlo escluso dalla palestra dopo una vita passata al servizio della comunità e in particolare di questo impianto sportivo che ha contribuito a realizzare oggi mi trovo un po' spiazzato di tutto perché ci hanno mandato via da Cucurano grazie all'assessore Barbara Brunori e ad Enrico Nicolelli che gestisce la palestra di Cucurano che tra l'altro è anche consigliere comunale due cose secondo me non compatibili comunque ci hanno mandato via da Cucurano e questo non mi sta assolutamente bene il comune infatti aveva proposto alla società di calcio a 5 di spostarsi alla trave una soluzione però che non piace a Biagioli ma che d'altra parte ha consentito agli atleti dell'Alma Juventus ginnastica di utilizzare la palestra di Cucurano la quale viste le dimensioni è in grado di ospitare trampolini io voglio ritornare a Cucurano nella palestra dove ho sempre lavorato per 40 anni e dove abbiamo investito 180 mila euro nell'arco di questi anni e 15 anni di mutui finiti di pagare però è stato un grande un darsi da fare e oggi ci troviamo non più nella nostra zona siamo mandati all'estero l'assessore Brunori secondo il presidente non avrebbe tenuto conto di tanti aspetti proprio come gli investimenti citati da Biagioli che chiede più rispetto oltre a questo diverse sono le criticità negli spazi sportivi di Cucurano è un parco pubblico privo di cancelli addirittura abbiamo la casa del parco pubblico non agibile perché non c'è l'assessore per l'handicap e abbiamo in fondo alla palestra un campo polivalente coltivato a d'orto adesso ci sono i broccoli prima c'erano cavoli, zucchine e quant'altro io credo che un assessore così non sia in grado di gestire Fano non abbiamo bisogno di dilettanti allo sbaraglio lei faccia un passo indietro è bene che vada a casa perché non può tartarci così quindi noi ci rivedremo perché io non mollo e io rivolgo le mie ore nella palestra di Cucurano e quindi noi ci rivedremo io lo seguirò le dirò di questo fugga quanto vuoi fuggi quanto vuoi che io ti aspetto e la replica dell'assessore Barbara Brunori non si è fatta attendere Assessore che cosa risponde a Biagioli che tra l'altro chiede anche le sue dimissioni allora a Biagioli rispondo semplicemente che nessuno ha tolto qualcosa a qualcuno questo è stato semplicemente il frutto di una lunga mediazione che ho fatto sia con il gestore dell'impianto appunto della palestra di Cucurano ma anche con tutte le società che interagivano all'interno che erano due una è il calcetto appunto del Cucurano e l'altra invece il calcio femminile per le quali grazie a una mediazione che ho fatto con il circolo tennis e anche con la società ETA Beta siamo riusciti ad includere cercando di modulare anche la tariffa perché era questo il problema naturalmente chi non è contento di andare anche in una palestra nuova dove proprio si ritrovano tutte le stesse attività e discipline partendo proprio a ritroso voglio ricostruire un fatto che è determinante io sono assessora allo sport e come tale devo poter favorire tutte le società sportive all'interno nel momento in cui una società del trampolino elastico che tra l'altro all'interno della stessa federazione della ginnastica ritmica che oggi lavora dentro questo impianto si candida nella città per poter lavorarci una società ripeto del trampolino che oggi ha campionati a livello nazionale e mira anche a fare qualcosa a livello internazionale io non posso essere indifferente è 40 anni che questa società ci chiede spazi non glieli diamo per cui arrivare a una mediazione ho cercato di mettermi in movimento per dare una risposta io penso che questo sia il mio dovere sia il dovere proprio di un'amministrazione seria che vuol bene alla città poi comprendo che naturalmente le dichiarazioni di Biagioli sono dichiarazioni anche personali perché c'è un legame personale ci hanno investito dei soldi ma come lui tante altre società sportive perché oggi di fatto lo sport nella nostra città riesce a sostenersi perché veramente ognuno ogni gestore mette il cuore oltre l'ostacolo ci investe del proprio e quindi non è una cosa straordinaria rispetto a altre cose che si fanno è stata mia premura trovare una soluzione per collocare tutte quelle che sono le attività all'interno tanto che non abbiamo lasciato piedi nessuno ci tendo a ribadirlo per cui le dimissioni di solito portano fortuna le colgo così invece sulle altre segnalazioni dete da Biagioli ne era conoscenza? no segnalazioni di degrado né cancello né del parco retrostante non ne sapevo ma mi adopero da subito sono iniziati questa mattina i lavori sulla strada 423 Pesaro Urbino nel tratto di 6 chilometri di proprietà della provincia e che va dalla rotatoria Obi al cimitero degli inglesi di Montecchio la parte restante invece di competenza dell'ANAS come evidenzia il dirigente Mario Primavera si tratta di lavori finanziati dalla regione Marche per un importo di 350 mila euro l'intervento durerà circa 10 giorni ed è prevista la circolazione a senso unico alternato questa sera alle ore 21 nell'area del Codman a Rosciano di Fano si terrà un incontro informativo sul volontariato di protezione civile agli interessati verrà illustrato anche il percorso formativo per conseguire il brevetto di tipo C della federazione italiana ricetrasmissioni e che riguarda la logistica la segreteria le telecomunicazioni e le norme che regolano tutta l'attività di volontariato e anche questa sera invece apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Giuseppe Bartoli e Graziella Massarini di Candelara che oggi festeggiano 59 anni di matrimonio auguri da tutti i familiari e ovviamente dallo staff di Fano TV questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ricordo il numero dedicato alle vostre segnalazioni per noi sempre importante 338 49 68 250 l'informazione invece torna domani mattina alle 7 con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri buona serata grazie a tutti Autore dei sovrapposti